Bella per tutti ragazzi, oggi affronteremo BoA 60 stamina con un team capitanato da doppio fuggitora Caesar, Kobe Colosseo, Smoker Colosseo e Asop GP Allora, come rider non è difficilissimo, basta solo sapersi un po' muovere e ovviamente averci le unità giuste Vabbè, qui siamo partiti, allora nel primo stage troveremo due mob giganti Con due daimo turtle e una lobster Ora, io cercherò di analizzare il livello solo con questo team Quindi, per esempio, in questo caso io faccio fuori gradualmente prima due mob e poi le daimo Pur subendo tranquillamente l'attacco perché uno, ho parecchi HP E due in modo da aumentare i turni sulla lobster Ora, a me basteranno i quattro turni a disposizione, cioè con doppio fuggi basteranno i quattro turni a disposizione della lobster Ma, a seconda di quanti turni abbiamo per caricare le nostre special, possiamo calcolare anche di subirne un altro di danni Ora, in questo caso io sto utilizzando due fuggitora con la special livellata Però, magari nel caso non avviate special che ne so, a ventiquattro turni, magari possiamo perdere un po' più di tempo nel primo stage Il secondo stage è un po' antipatico perché troveremo 6 mob Ognuno di questi ci infligge 10 turni di despire Ora, con questo team che sto utilizzando Quasi sempre ne rimarranno due in vita L'unico modo per farla rimanere solo una in vita Praticamente è arrivare al secondo stage con full orb Però, comunque, anche se ci infliggono 20 turni, ovvero 14 se ci si avesse il socket di livello 3 Si può installare tranquillamente a questo stage qua Praticamente ci sono 3 mob giganti e una mob gigante con una barriera a 26 hit Quindi, in pratica, finché non facciamo 26 hit, non subirà danni Anche se, a dirla tutta, il 26esimo hit fa danno Quindi, quando attaccheremo con il 26esimo colpo Già quello verrà calcolato come danno Ora, non è una cosa importante, era giusto per dire Allora, il modo migliore per comportarsi arrivati allo stage 3 Con questo team, sicuramente, è usare ASOP E usare i turni di Delay delle Giganti Per far sparire, insomma, far passare i turni di Despair Scusate Ora, molto importante sarà anche il gioco con i cosciotti Perché comunque noi dobbiamo temporeggiare in modo da far sparire il Despair Però il gigante attacca levando 10.000 Ora, io qui mi leva leggermente di meno Ma solo perché ho il damage reduction attivo A livello 1, insomma, quindi mi ha diminuito di giusto Comunque, leva 10.000 E comunque, siccome noi dobbiamo aspettare che passi il Despair Cerchiamo anche, non lo so, di non fregarci le morto degli orb positivi all'inizio Ma cerchiamo di farmare i più cosciotti possibili Non mi ricordo dopo quanto Comunque, dopo un tot di turni Il mob gigante perderà la sua barriera Quindi, a un caso, nei turni precedenti che stiamo usando per installare Cerchiamo di fargli anche un po' di danno Ma non esagerando Perché noi, anche col Gloom Riusciremo tranquillamente a buttare giù il gigante Quindi, giochiamo un po' con della serie Cioè, arricchiamo gli danno Ecco, infatti ora è sparita In modo che poi rimane un po' di vita Ci possiamo giocare, che ne so, magari farmando un po' di orb per il turno dopo Dipende sempre dal team Se non riusciamo a installare tutti i turni necessari allo stage 3 Magari per problemi di vita, magari per altro Possiamo tranquillamente avanzare allo stage 4 Che è il solito stage di tutti i ride Che c'è il pinguino, il cavalluccio, eccetera, eccetera Io mi sono portato la... La Sunny In modo che Se dovessi installare al quarto stage Perché può succedere, per sbaglio, che nel secondo stage veniamo Insomma, subiamo il Despair da ben tre mob E lì comincia ad essere un po' un problema Magari dobbiamo avere bisogno di altri turni nel quarto stage Quindi che facciamo? Usiamo subito la Sunny Facciamo piazza pulita E poi volendo si potrebbe installare su il pinguino che rimane in vita Occhio a... Se dovete installare, dico Non portarlo troppo a metà Perché comunque poi si alza la barriera E incomincia a fare un po' di male Eccoci da Bo Bo, se non ricordo male Dovrebbe avere intorno ai 2.7.000 di vita Non vi sto a spiegare cosa fa e cosa non fa Perché con questo team Noi la facciamo fuori praticamente al primo turno Attiviamo, vabbè, Kobe Per i conciotti Per fare orbio positivo Caesar che busta Di 1.75 I Drive Poi usiamo anche Smoker Call Che busta i orb e si leva un minimo di vita Al team che poi rende, vabbè, al boss Abbiamo subito già shottato Bo A Bo rinace all'incirca col 25% di vita E ci locca un personaggio a caso Nota bene Tutti tranne i capitani Quindi chi vi locca vi locca non cambia nulla E praticamente noi abbiamo già finito Questo è proprio un team Non dico spaziale Perché Però Va che è una bellezza Bastano le due legend di Fuji capitani E il resto va tutto da sé Questo team ci fa anche l'ambushed di Barba Bianca Giovane Che non ho caricato su questo video Per mancanza di tempo Quindi Vi invito a vedere anche quello Per questo video flash È tutto Vi invito al video dell'ambushed Bella per tutti Ciao